domattina parti domani sera e quando la vedi domani è arrivato tardi andatemi qualche foto quando ti fa fare il giro il 28 al 20 giovedì poi venerdì parto mi ha mandato un cliente delle polizie fatto ospitare ti sei nell'ultima sera l'ultima sera perché non avevo non mi pagava l'hotel cioè non ho voluto prenderlo per i soldi dell'università io c'è la gravità diminuita che noia ed è ma così a prendere la night bravo atto ci vai sopra capito no vabbè dai è comodo così che si salta di più c'è l'ho oxigen oh mio dio ma che cazzo di missione è non neanche ho accorto abbiamo perso l'ingegnere benissimo benissimo vado vado faccio partire si 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 bisogna ricordarsi di chiamare molly si si la sto chiamando la nightra la vado a prendere io che se no se no voi a muoverci ci mettete una vita ah ma anche il drill dozer c'ha l'oxigen ok ok allora me la lasciate molly stiamo per sbuccare nella stanza attenzione ci sarà tipo dio c'è giusto un po' di gente dietro il drill dozer stai usando ma il layer no 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 ma che allora è livello 5 no oddio mio gesù quanta gente ma no dai è gestibile si io vorrei prendere la nightra però spero che non mi vengano a dar fastidio oh sto ottimo meno male quanta gente c'è quanta gente c'è oh c'è ancora c'è un coso gigante pusha lo via con lo scudo pusha lo via con lo scudo no è esploso subito ecco c'è tipo esploso istantaneamente eh no è esploso istantaneamente perché qualcuno gli ha fatto danno io non gli ho fatto danno sono morto come si chiama il tizio che è entrato guys no gold please oddio ma quanto gente c'è c'è un risupply vero? eh tra poco si Io adesso torno indietro Bisogna anche riparate Tenete riparato d'oretta Io vado a fare la nitra che era rimasta nell'altra stanza Posso chiamare delle munizioni? Sì 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 Io ho un altro pezzo di nitra da fare Poi dopo ci sono Sì ma qua nessuno sta C'è che devo fare tutto io Ho capito Basta Basta C'è un nexus Canisters please No no C'è qualcuno che sta ammattando Molly Se riuscite a Hello Eh sì sì ci siamo ci siamo Matti Faccio io faccio io Hanno Suzie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Dov'è l'altra benzina? Vedete l'altra benzina? Non sono nella santa lì Vista, lo vista Ho recuperato altri 43 di Nitra C'è gente, c'è gente, c'è gente Ah, cazzo No, l'ossigeno Ah Bacca voglia, porca puttana Ti tiro su Sta arrivando Molly, sta arrivando Molly C'è un'ondata Quindi bisogna che Vieni su Perché rimbalzo in giro? Oddio, buono Eh, cazzo Ho lasciato il coso là sotto Vado a prendere, dai Sì, faccio con una teleferica Sta missione in questo caso senza di me era proprio impossibile Non è proprio affattibile Sto prendendo Nitra in posti che Sì, ma non c'era abbastanza Sì, ma non c'era abbastanza Ma zio ca Ma dov'è l'altra benzina? Impazzisco Eh, qua, 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 qua Mi manca un cicciolo Ve l'ho segnata Fallo pur partire? Eh, sì Non so, mica carico Che due coglioni Vai Vai Nitra ne abbiamo 180 Quindi Questo è vuoto Dai, livello 5 Divertente Sto cazzo di gioco Madonna Ecco L'ho appena detto Divertente Ho appena usato le parole Divertente Scena Scena da Die Hard Sul Drill 2 Occhio, occhio che c'è un'altra fina nuova Oddio, quanta gente Un sacco di Nitra dopo torno indietro a farla C'è, il cazzo di Drillery sta facendo più danno a me che ai nemici Sto per finire Ok, siamo già alla perla Molto bene, direi I'm going back for some Nitra Wait a second C'è un sacco di Nitra nella stanza prima Lì, però c'è un po' di C'è un po' di Di tempo per recuperare Almeno Cosa? Ti seguiamo? No, 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 no Guardate pure se c'è qualcosa da prendere Andi, get the Nitra here, please Oh, I can't breathe Move your tin ash over here and hurry, please Oh, c'è un nexus Dove è il nexus? Ok, ci siamo Ci siamo? Secondo Ne chiamerei anche un altro Io direi supply qua Tanto Abbiamo solo sta missione da fare comunque Non so, un secondo che ho visto dall'altra Nitra Expiralare 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 Cattamion Just the last episode of Nitra Expiralare 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 Ti giuro l'avevo visto Si ha preso qualcun altro Come fai a fare i pietroni dopo senza il lanciarazzi? Ah ma funziona anche la metagliatrice Occhio, sta per esplodere Chiamo un altro resupply, no ne abbiamo tre Ci sono le meteore Chi è che mi rompe le palle? Mi sto dando una mano io Chi è che mi colpisce, porca mia? Ma c'è un altro nexus di merda Ah, bisogna riparare, bisogna riparare Come ho fatto a morire? Ma chi è che sono chiuso così? Arrivo, 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 arrivo Va bene, va bene, a posto Metti uno scudo sul resupply dove sono io Tirami su Ok Bene Da riparare C'è un nexus comunque da qualche parte perché Ok Ok, fra un po' escono le punte Quindi se ti vuoi mettere sopra Sopra la stone Io Punte Io riparo C'è una menas, c'è una menas da qualche parte Chi è che mi fa tutto sto danno? Basta Sto riparando Punte Copro Copro E' andata, è andata, è andata, dai, dai 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 dai, riparo Gigi Da manuale questo devo dire Bella, bella Ma va bene Questa non era facile Guarda che ho preso talmente tanta nitra che abbiamo un altro resupply Ehm Sono stati bravi anche tutti, non sono morti praticamente mai Siamo Io chiamo eh Vai vai, chiama, chiama, chiama Il mio avvio Quantità di nemici inconcepibile comunque, cioè, una roba Ehm E quella è la parte divertente Seguite le luci Ah c'è il mondo Ehm Salve, certo Occhi all'ossigeno, occhi all'ossigeno eh Sì sì E' in parto Gigi's guys, well played Bravi Bravi tutti Comunque sono più facili nel livello 5 delle Deep Devil Non so C'è Non è che ci fosse chissà Beh insomma abbiamo beccato anche il Il detonator bulk dorato e insomma Ma non c'erano così tanti nemici dai Cioè non ci esiste 218 io Oddio sono tanti con una missione D'ingegnere 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 441 Insomma Non male Molto più decisioni di te Ah D'ingegnere prova a fare una quarks a livello 5 Ma quelle sono challenging Altro che Sì, davvero